Grazie a tutti Il problema dell'Italia sono le mafie che vanno a bracciato con la politica fai qualcosa fai qualcosa contro le mafie Dico questo il colonnello mio amico della finanza aveva quello che ha scoperto i 98 miliardi di elisione fiscale sulle slot machine lui è entrato dentro i 98 miliardi di elisione fiscale 4 finanziarie l'hanno trasferito e lì sono sogni lo Stato che gestisce con le proprie società e la mafia, l'andrangheta e la camorra perché vanno dove ci sono i sogni il cemento è andato giù vanno nei prodotti contraffatti nei farmaci contraffatti tornano le sigarette sono tornati a Napoli guarda se ti dico delle palle quindi bisogna saper anche cercare dove perché vanno dove c'è il grano ci stiamo dietro soprattutto qua in Campania Beppe la fanno da padrone grazie 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 grazie